Ciao. Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Francesca Chillemi. Terribile confessione sulle violenze. Le ho vissute in modo Virgolette punto. Ecco tutta la verità da brividi. Francesca Chillemi. Originaria di Messina. Nasce il 25 luglio 1985 A soli 18 anni partecipa al concorso di bellezza Miss Italia e si aggiudica il primo posto nella competizione più ambita dalle donne di tutt'Italia La vittoria le spalanca le porte del successo e della televisione. Dove si distingue non solo per la sua evidente bellezza, ma anche per l'innata positività e simpatia L'attrice è riuscita a superare il cliché della, bella che non balla, e da costruirsi da sola una carriera di tutto rispetto Complice la sua genuina bellezza, ma anche il suo impegno nello studio della recitazione. Francesca è diventata una delle attrice italiane più amate dal pubblico Dopo un passato da Miss, è la volta della recitazione. La ricordiamo in diverse fiction come Un medico in famiglia, Il commissario Montalbano e Braccialetti Rossi Il grande successo lo ottiene nella serie televisiva Che Dio Ci Aiuti, in cui interpreta il personaggio di Azzurra Dal 2021 è impegnata nel set di, Viola come il mare, al fianco dell'attore turco Ken Yaman Da quando recita al fianco del turco più gettonato e desiderato, Francesca si trova spesso sotto i riflettori, ma l'attrice confessa, è un uomo carismatico, riesce ad arrivare al pubblico Il lavoro di attore è fatto di bravura e competenza, ma anche, e tanto, di capacità di comunicare con gli spettatori, lui ne ha molta Francesca Chillemi La verità sulle violenze Le ho subite, ma Francesca Chillemi è un'attrice italiana di grande successo che, attualmente, è impegnata nella seconda stagione della fiction Viola come il mare La sua carriera artistica inizia dalla vittoria a Miss Italia Ormai cancellato dai palinsesti televisivi poiché è considerato una vetrina per il, body shaming Francesca non è d'accordo Certo, è una gara Serve a fare spettacolo Le concorrenti sono in costume da bagno Così come lo sono tante ballerine in giro per il mondo Dipende tutto dagli occhi con cui si guardano le cose Se gli occhi sono puliti, non vedo tutta questa negatività Durante l'intervista Centrale è stato il tema delle violenze subite sul posto di lavoro e la Chillemi ha confessato Non mi è mai capitato di subire molestie Ma ho amiche che le hanno subite E quindi le ho vissute in modo indiretto Un argomento, purtroppo, che è sempre attuale ed esta polemiche e punti di vista differenti Mi fa arrabbiare quando la gente punta il dito e dice Poteva trovare il modo di evitare le molestie E invece può succedere di bloccarsi La violenza provoca reazioni diverse Non tutte hanno la forza di reagire Per quanto mi riguarda Sono abituata a difendermi da sola Francesca Chillemi è sposata con l'imprenditore Stefano Rosso dal 2015 L'attrice ha confessato che l'amore è sbocciato lentamente Senza alcun colpo di fulmine Tuttavia Da quando Francesca interpreta viola al fianco dell'attore turco Ken Yaman Si è trovata spesso nel ciclone del gossip Molti sostengono la tesi che Non solo nella fiction Ma anche nella vita reale ci sia qualcosa in più dell'amicizia Voci che l'attrice ha prontamente smentito Esprimendo un parere positivo sul suo collega Con lui si è creata una bella sintonia E, intelligente Aperto Generoso Ma Francesca e Stefano sono una coppia stabile ed innamorata Nel tempo libero dal lavoro raggiungo subito mia figlia Che ha un padre eccezionale Con lui Patto di ferro Insieme con Rania deve esserci sempre almeno un genitore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti